ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un episodio dedicato ai vostri video eccoci qua con una simpaticissima puntata dedicata a voi che state guardando il canale in che senso a voi perché diventate voi i protagonisti di questo video e come mandando i video con la vostra collezione con qualche domanda semplice collezione che dovrebbe essere non troppo vasta nel senso può essere anche vasta purché il video non sia troppo lungo diciamo che intorno ai 5 minuti 4 minuti 3 minuti e siamo tutti contenti anche perché se ne può mettere di più in una stessa puntata mi raccomando partecipate numerosi prima di guardare i vostri vedetti vi mostro l'orologio del giorno che questo simpatico quer voi sobrinos isturiador asturia orologio con 39 mm di diametro cassa e che con quel quadrante rosso fuoco è adattissimo all'estate poi specie con questo cinturino in razza di john cool straps ha guadagnato tanti punti nella mia personale classifica di orologi da indossare no poi come sempre si ruota un po a un certo punto ti stufi ne prendi un altro io a dire la verità ne indosso più di uno nella stessa giornata a seconda delle attività da fare no sul divano a guardare la televisione metto anche un simpatico vintage tanto non si rompe non si distrugge va bene adesso guardiamo i vostri videini dai su ciao davide sono fabio da piacenza volevo farti vedere la mia piccola collezione di orologi e chiederti qualche informazione comincio con i quarsi lockman stelt al quarzo vado veloce toy watch quarzo anche questo orologio diciamo un po come lockman molto da spiaggia così ferre milano sempre quarzo e infine world timer di cui ti volevo chiedere qualche informazione perché non riesco a trovare praticamente niente conosco il marchio so che un marchio storico ma non allora gruen e si è un marchio storico nasce a fine dell'ottocento in svizzera e ha una certa storia una certa qualità costruttiva negli anni venti addirittura confluisce poi in alpina che è un marchio abbastanza prestigioso per poi in succe successivamente uscirne nuovamente poi negli anni settanta cessa completamente la attività per la crisi del quarzo fino a quel momento però facevano anche calibri di manifattura in house la cosa abbastanza interessante negli anni 90 è stata comprata da una da un investitore adesso ricordo bene il nome che ha cercato di rilanciare il marchio creando orologi repliche diciamo così di quelli vintage di quelli vecchi però al quarzo e questo tuo orologio qua fa proprio parte di quella di quella specifica parte di storia di gruen cioè negli anni 90 al quarzo repliche di quelli vecchi e secondo me se lo metti in un cassetto e non lo fai a vedere nessuno non ci offendiamo non riesco a trovare niente su questo quarzo svizzero automatici questo mortima che ho trovato un mercatino beh carino dai carino passiamo a un altro che ti volevo chiedere qualche informazione questo rift tiger che ho comprato per vedere com'era diciamo lo utilizzo abbastanza e devo dire che non è nemmeno come si fa a comprare questa roba qua è una ciofecca si tratta di un marchio di impostori o come ormai siamo abituati a vedere impostori veri e propri io non ho nulla contro le aziende cinesi che sanno anche laurare bene ma sempre più spesso mi ritrovo a dover evidenziare aziende cinesi che agiscono in maniera truffaldina e rift tiger è una di queste non si tratta di sproveduti ma di un marchio che vende tanto e che ha più di un sito web e commerce ha un punto com un punto it un punto co punto uk e così via e vendono ciofecca in tutte le salse ma il bello è che sul loro sito vantano di essere svizzeri di essere nati nel 1898 e che i fondatori erano tale signor stefan tiger e un altro signor non mi ricordo come leandro riff ora no tutto bello tutto stupendo se non che poi sempre nel loro sito web si vede la fotografia del fondatore stefan tiger benissimo questa foto altro non è che la foto di arthur conan doyle famoso scrittore e drammaturgo scozzese ora io non immagino non oso immaginare tutte le altre fotografie del laboratorio della fabbrica delle lavorazioni da dove caspita le hanno prese questi qua sono veramente dei degli impostori dei truffaldini e io me li vedo là che si girano i pollici contenti che tanto noi europei abbocchiamo a tutto e compriamo queste ciofeche come questo orologio che hai te che dici anche che non è male ma sarà anche non è male cioè a me mi fa cagare diciamo così proprio anche solo a vederlo con quel bel 12 grandi lì però tutto quello che c'è dietro vai sul sito web vedi off 30% orologi scheletrati cinesate col calibro a vista insomma come si direbbe dalle mie parti a nissian meno proprio così male nonostante sia una cinesata c'è scritto swiss tech automatic rga 192 sinceramente non sono nemmeno ora mi viene anche in mente che in tutta la storia che c'è lì nel loro sito web c'è proprio anche tutta la storia come siamo abituati a vedere con l'interruzione della seconda guerra mondiale che poi negli anni 60 hanno fatto anche i quarzi anche loro hanno contribuito alla storia del quarzo naturalmente stimpostori qua e poi ti mi dici swiss tech swiss tech non è niente è una cosa neutra è capito è come scrivere è come parmigiano reggino ora non me ne vogliano gli amici di reggio calabria è un esempio per togliere la ti passi nel supermercato parmigiano reggino così veloce lo prendi pensi che sia parmigiano reggiano swiss tech è la stessa cosa non significa niente lo possono scrivere perché non significa niente siamo noi che abbocchiamo a queste sbugiardate qua hai capito cosa voglia dire se hai qualche informazione in più ti ringrazio te lo date l'informazione in più un po' di un altro tipo martello e via emilton viewmatic bello questo qui classico emilton ce l'avevo anch'io e se noti bene c'ha un rigonfiamento la cassa è asimmetrica ha un rigonfiamento dove la corona di carica che fa sembrare il diametro più grande di quello che è realmente al polso non mi piaceva quindi l'ho venduto però è un bello orologio e questo princeps le mans che ho trovato recentemente mi piace molto cronografo bello dai facciamo partire così e mi piace veramente tanto nonostante sia un orologio diciamo così non molto quotato però credo che questo è uno di quegli esempi che facevo che ho fatto in passato cioè quando uno vuole un calibro 7750 no un cronografo senza spendere tanto va su ebay ad esempio e scrive il nome del marchio con scritto eta 7750 no princeps 7750 lorenz 7750 tengono fuori degli orologini che con poche centinaia di euro per lo meno io mi ricordo così te li puoi portare a casa e c'è un orologio decente con cui divertirti eh ma non come il rift tiger di prima eh quello martellalo martellalo monti un 7750 se puoi mi riusci a dare qualche informazione anche su questo ti ringrazio e poi ultimo diciamo un po' più di livello tudor blackbait 41 insomma che ha un orologio abbastanza conosciuto che utilizzo spesso grazie mille bello 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 infatti cioè mi hai mostrato due orologi alla fine tre orologi decenti belli fatti bene come si deve cosa te ne fai di tutti quelli prima non oso immaginarlo no ma mettiti in un cassetto buttali via spaccali buttali nella differenziata fai qualcosa guardiamo l'altro video dai facciamoci passare ciao davide sono stefano mi sono iscritto al tuo canale da poco meno di un mese ho trovato i tuoi contenuti molto interessanti soprattutto la tua voce molto rilassante adesso ti espongo la mia piccola raccolta di orologi partiamo da quelli che possono essere un ciofeca alert questo sector al quarzo regalato da mia moglie no questo sector qua non è per niente un ciofeca alert allora anzi il design di questo orologio mi piace è particolare e perché sector non fa degli orologi con questo design con una meccanica magari migliore adeguata ai giorni nostri ma anche un nh35 andrebbe bene ma buttala là però con un design ripreso da questo qualcosa di accattivante per gli appassionati che ti viene voglia di comprarlo perché è particolare perché se lo indossi dici è un sector non è che assomiglia a qualcos'altro è un sector cioè dovrebbero rifarsi un po' di identità così questi marchi qua che andavano una volta come Braille Lawrence ha consumato solo una batteria è molto grande io ho un piccolo polso poco più di 16 è molto pesante non lo metto mai lo tengo perché non ci sono affezionato poi passiamo a questo Lockman di Cristo 41 so che non sei molto affezionato a questa marca io lo trovo molto comodo cittadino di pelle sfondo color ottagno poi ho questo Citizen Pilot ecodrive radiocontrollato in super titanio un orologio molto leggero sempre pronto all'uso anche se non lo uso più molto perché per lo stesso discorso di prima un polso molto piccolo e l'orologio è molto grande poi ho questo Swatch classico System 51 non ci spenderei molto tempo carino dai l'ho preso per averlo anche questo l'uso veramente poco poi ho questo Tissot le Lock col Powermatic 80 non mi piace che è bello dai elegante col cinturino nero sfondo nero lo uso un po' di più è molto comodo poi mia moglie si era veduta wow e mi ha regalato questo Oris Big Crown pointer date spettacolo piccoli secondi ora 6 col calibro 403 della Oris 5 giorni di carica 10 anni di garanzia pensate un po' la prima manutenzione dopo 10 anni e 10 anni di garanzia ora no a che punti siamo arrivati con la tecnologia ma anche con la sicurezza di darti un prodotto sul quale poi è come scommetterci ti giuro che è fatto bene è così che funziona no? 10 anni di revisione 10 anni di garanzia è fatto bene te non ti preoccupare poi può anche avere degli errori dei problemi però intanto partono con quel concetto lì 10 anni per la prima manutenzione molto bello lo uso parecchio un 38 di diametro è proprio idoneo poi ho questo Seiko Alpinist so che ti piace forse non ti piacerà questa configurazione uno sportivo laminato con l'oro un Cal Calibur 6R35 che conosci bene anche questo lo porto parecchio mi piace bravo bravo e per finire questo è Hamilton King Auto bellino sempre colleta 80 ore di riserva un po' troppo bianco cinturino in pelle bello bello e questo è quanto le due domande che vorrei farti sono se hai un limite di spesa per un calibro non di manifattura e se sai consigliarmi un orologio con le fasi lunari entro le 1000 euro vorrei proprio averlo sono appassionato di questa di questa funzione però non ne possedgo neanche uno grazie mille per il tempo che ci dedichi grazie a te ciao 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 allora non ho capito bene la domanda del limite di spesa per un calibro in house però credo quanto uno si è disposto a spendere per un calibro di fornitura mettiamola così in realtà varia da orologio a orologio da persona a persona cioè uno può essere disposto a spendere anche 3-4 mila euro per un Breitling con un calibro di fornitura su base Sellith SV200 perché no magari poi quando si arriva a un Ublow che costa 15 con un calibro modificato sulla fornitura magari fai un passo indietro oppure un EVC si o no dipende quanto ti piace l'orologio perché poi a fine dei conti calibro di fornitura ma anche non è che siamo tutti adesso qua a piacerci a farci piacere a farci piacere no ci piace proprio il Breitling Cronomat degli anni 80-90 ma dentro lì c'è un ETA 77-50 e anche spesso la maggior parte dei casi senza decorazioni e senza nemmeno rotore Breitling è proprio spartano messo lì eppure siamo tutti lì a spendere soldi e ci piace è bello e lo consideriamo quindi bene il calibro bene le considerazioni tutto quello che vuoi le faccio anch'io quando devo spendere poi a un certo punto via così eh anche se c'è calibro di fornitura e piace si spende la seconda domanda sul fasi lunari che ti piacciono tanto a me è una di quelle complicazioni perché per me non mi dicono niente potrebbe anche non esistere che sarei contento anzi mi dà anche fastidio sul quadrante detta così un orologio intorno ai 1000 euro con fasi lunari fasi lunari reali perché poi ci sono quelli anche finti secondo me c'è il mido baroncelli come si chiama moon smile una roba del genere c'ha le fasi lunari fatta a bocca che sorride anche particolare perché si muove in un certo senso se a te piace magari quello lì e costa intorno ai 1000 euro per me no io ne faccio senza contento te contenti tutti ciao Davide sono James ciao James saluto tutti i tuoi iscritti al canale tutti gli appassionati in realtà io ho scoperto il tuo canale da poco mi sono iscritto e sto cercando di recuperare insomma sto cercando di guardare il più possibile tutti i tuoi video niente io non sono a casa mia per cui non ho tutti i miei orologi ma c'è no soltanto uno che è quello che uso di più ormai da 4 anni faccio vedere lo uso quasi tutti i giorni e questo 6 o 5 è il mio orologio di battaglia praticamente perché lo uso a lavoro lo uso allora questo qua l'ho recensito anch'io è quello che ho definito uova al tegamino perché se te ci fai caso e lo vedo anche da qua che il materiale luminescente è fuori centro su quasi tutti i i bicchierini cioè i pallettoni è completamente fuori l'ho messo un po' a caso quindi l'ho chiamato anche uova al tegamino sai l'occhio di bue l'uovo secondo me sono anche un po' fuori anche nel triangolo e giù nel rettangolo comunque controllati ma vabbè contento ti poi contenti tutti è un orologino così dai per andare a mare in piscina ci ho fatto anche qualche immersione con questo orologio nonostante non abbia la corona a vite non ho mai avuto problemi di infiltrazioni d'acqua 100 metri corona a pressione come si vede funzionano usiamoli non dobbiamo avere paura controllate sempre prima di entrare in acqua di avere la corona al posto giusto e niente mi è appena arrivato invece un citizen che mi ha lasciato un po' la mare in bocca l'ho comprato su amazon l'ho pagato circa 200 euro ormai amazon è pieno di orologi di cinesate di marche strambe stranissime orologi che cercano di imitare altri orologi sinceramente spendere 150 euro magari per una cinesata con marchi veramente stranissimi che quasi non si riescono a pronunciare preferisco comprare orologi originali con 200 euro mi sono portato da casa in citizen promaster è la rovescia è la rovescia però come ti dicevo sono rimasto un po' male sono rimasto male un po' del cinturino perché non mi aspettavo avesse questo tipo di cinturino ma pensavo fosse a maglie piene e che dire bisogna accontentarsi infatti quando l'ho presi optai per il cinturino in gomma che per l'uso a cui è destinato è anche ideale il bracciale è un po' così un po' scrauso come si suol dire o lo tieni così o ce ne metti un altro la strap code ne fa anche uno mi sembra per il promaster o no forse no forse mi confondo o ci metti un cinturino di gomma un nato insomma l'orologio vale la pena di essere posseduto beh l'orologio è bello mi piace ma mi allascia ad un po' l'anore in bocca il cinturino dirò l'altra volta una mia fisima non lo so ma per me i cinturini in acciaio devono essere pieni non so che abbiamo capito niente va bene allora ti ringrazio saluto ancora tutti quanti e a presto ciao ciao davide e agli amici del canale ciao ti saluto con uno dei tuoi video in riproduzione bravo e passo subito a farti vedere la mia piccola collezione già allora nuovo arrivato eccolo qua pro master l'ho preso da pochissimo qualche giorno esattamente con un cinturino a gomma come dicevo io l'affidabilità del movimento ma l'ho subito adorato per come sta il polso per questo quadrante che illumina le stanze praticamente al buio e insomma questo design è un po' personale che mi piace tantissimo passo poi a un altro diver questo seiko a carica solare sempre da 200 metri sempre con la pressurizzazione a vite e pressurizzazione è super affidabile anche questo te lo puoi dimenticare nella scatola degli orologi è sempre carico quindi va sempre bene sempre pronto sempre massiccio anche questo poi ho un Kaki engineer batteria scarica ce l'ho ormai da un decennio un altro quarto quando l'ho preso mi piaceva molto attualmente invece lo sento un po' troppo grande credo che sia un 42 millimetri e mezzo e lo sento sì davvero troppo grande infatti i gusti cambiano non lo so adesso aspetto un po' a cambiare la batteria perché non me lo vedo così tanto bene al polso come un tempo non aspettare a cambiare la batteria perché se la lasci dentro poi così scarica fa anche l'acido non dimenticartelo lì e pensare che vada tutto bene piuttosto toglila timex a cui ho cambiato il cinturino lo uso fondamentalmente a lavoro assieme a un altro che ti farò vedere cinturino in gomma a cui insomma un orologio da battaglia bello affidabile ma da battaglia insomma vali soldi spesi l'altro orologio che uso a lavoro è questo swatch perché facendo il barbiere sbatto un po' insomma ho sempre le mani a mollo poi rischi di sbatterli contro il lavello quindi non vorrei rovinare insomma gli orologi che costano un po' di più poi ho un altro Hamilton un pilot sembra un cacchio aviation pilot mi piace un sacco la compattezza il forte richiamo storico da fieldwatch la ricarica manuale ed è super preciso super super preciso non so se non essendo a carica non essendo automatico ma a carica manuale aumenta la precisione oppure sono stato io fortunato ma no è che vengono regolati bene i calibri da Hamilton da ETA per Hamilton quando escono vengono regolati solitamente bene a maggior parte dei casi sono commenti positivi ogni tanto può succedere è un orologio svizzero spacca il secondo è fantastico mi trovo da dio è bellissimo mi piace insomma il mio orologio preferito attualmente della collezione poi ho un Seiko 5 questo avrà una decina d'anni e insomma molto sportivo compattino non li fanno più così compatti devo dopo sistemerò anche la ghiera e che dire un 6 avrei detto che è più grosso l'ho fatto revisionare da poco ora è anche molto più preciso di quanto era uno dei pochi che ha fatto revisionare un Seiko 5 complimenti con quello che costa la revisione rispetto al costo dell'orologio uno dice lo tengo lì così ha fatto anche revisionare bravo 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 tempo il primo orologio che ho comprato con il mio stipendio e quindi anche un valore affettivo oltre che passano gli anni ma lo trovo ancora super attuale insomma sportiveggiante però dice ancora la sua poi passo a farti vedere quindi un altro Seiko 5 a cui ho cambiato il cinturino l'ho messo di similpelle se posso dirti a parer mio questo cinturino non ci sta tanto bene non mi piace il cinturino così no e mi piace da morire super elegante te lo pulisco un po' ecco super elegante elegante che dire guarda ci sta bene praticamente in ogni situazione oltre che essere un Seiko 5 quindi abbastanza affidabile vali soldi spesi secondo me ecco poi ho un Casio G-Shock questo lo uso solo quando vado in vacanza perché può capitare di tutto e non voglio rovinare gli altri orologi quindi lo sbatto ovunque lo uso anche a lavoro diciamo a volte e poi ultimo ma non per importanza non è vero l'ho lasciato ultimo perché è il meno importante ed è un Brown al quarto quello dei Fon pensavo che Brown facesse solo i rasori elettrici e invece fa anche gli orologi diciamo che se per questi due o forse anche lui diciamo sono contento dei soldi spesi questo mi sembra che all'epoca l'ho pagato 120 euro e è al quarto tra l'altro la lancetta dei secondi non è neanche ben allineata con le tacchettine che dovrebbero indicare la loro progressione quindi insomma è un orologio magari più carino che altro non lo metto quasi più e concludo con una questo non te lo neanche faccio vedere non lo uso più era una smart band concludo con una domanda seven friday orologi molto particolari con una loro identità di cui però non parla nessuno a prescindere dal fatto che possono piacere o no cosa ne pensi del brand lo consiglieresti e niente un saluto di nuovo a tutti voi e buona giornata allora aiutami a dire brutti che più brutti non si può orrendi va bene come come definizione naturalmente questo è parere personale si va a gusti però sei te a chiederlo a me e io sono obbligato a risponderti sinceramente poi guardando un po' più in generale sul loro sito web loro si propongono come marchio per il lifestyle globale che produce orologi occhiali accessori insomma tutta una serie di cose di spirito industriale infatti gli orologi ricalcano quello stile lì un po' diciamo così sono tutti scheletrati incassano tutti i calibri seico meccanici c'è da dire che si aggeggiano un pochino per almeno per fare mettere le lancette in un certo modo originale qua e là ma secondo me i prezzi di 700 800 1000 euro che vengono venduti possono anche rimanere tranquillamente negli scaffali a prendere la polvere e a farsi ammirare da quelli che poi chiederanno il parere agli altri boh ho detto tutto quindi se ho detto tutto cosa facciamo vi ricordo gli appuntamenti fissi che sono come sempre ogni mercoledì ed ogni domenica alle ore 20 qua su youtube love